Riforma della portualità pugliese e opportunità offerte dalla possibile istituzione delle zone economiche speciali. Se ne è discusso a Barletta con il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e l'assessore regionale all'ambiente, Filippo Caracciolo. Sappiamo che dove le ZES si sono implementate c'è stata una politica anticivica. Sono un catalizzatore, sono un incubatore, sono un lievito per quanto riguarda l'imprenditoria. Nelle zone dove ci sono le ZES c'è meno disoccupazione, ci sono punti di PIL in più per procapite, ci sono imprese più vivaci, c'è anche una maggiore vivacità culturale e via dicendo. Non si vede perché se ciò avviene all'estero questo non possa avvenire in Italia, dove ci sono delle regioni che subiscono da tanti anni un forte pregiudizio economico, il divario rispetto al resto dell'Europa, rispetto al resto dell'Europa, è addirittura evidente, ma si è addirittura ampliato negli anni della recessione. Quindi c'è la possibilità di recuperare questo divario e le ZES possono aiutare in questo senso. In passato c'è stato l'esperimento di importare dalla Francia le zone franche. In cosa differisce questo tentativo delle ZES e perché dovrebbe andare in porto rispetto a quello? Beh, innanzitutto quel progetto non ha portato a nulla. Le ZES sono qualcosa in più della zona franca, perché possono includere una zona franca, ma non sono solo una zona franca. Sono delle zone di facilitazione, sono degli ambienti geografici delimitati in cui si creano le condizioni ottimali per lo sviluppo di un determinato tipo di imprenditoria legata alla logistica, quindi alla valorizzazione della merce, alla creazione di valore e via dicendo. È un meccanismo anche da un punto di vista normativo diverso, cioè quella che si chiama la cosiddetta burocrazia ad hoc, perché noi abbiamo una burocrazia statica, che è quella che ci ha danneggiato, insomma, quella che ci hanno imposto i piemontesi, perché era quello dello Statuto Albertino, in cui la burocrazia deve essere uguale per tutto il territorio nazionale. Poi esiste, e si è visto anche all'estero, la possibilità di avere delle zone in cui c'è una burocrazia adeguata al contesto socio-economico. Bisogna integrare le potenzialità economiche e imprenditoriali presenti sul territorio. Barletta, Manfredonia, Brindisi, Bari, devono dimostrare di avere questa capacità. Le prossime volte sono quelle di, innanzitutto, formulare la proposta, aspettare che il governo emani i decreti attuativi che mettono in evidenza quali sono le agevolazioni, sia quelle normative che fiscali, a favore dei territori e quindi coinvolgere tutto il tessuto imprenditoriale a investire in queste zone. Penso che questa sia un'opportunità vera, sia un'opportunità concreta e la stiamo valutando passo passo, ma riteniamo che sia una di quelle opportunità che non possiamo non cogliere.